Si può dire implicitamente che il Papa ritorna anche sulla questione educativa, là soprattutto dove mostra nel suo messaggio come la povertà culturale e morale è fonte di conflittualità. Un tema, quello dell'educazione, che sta molto a cuore anche al nostro arcivescovo e al quale il Cardinale Caffarra ha dedicato quest'anno il documento base, la scelta educativa nella Chiesa di Bologna. Si diffonde nelle nostre parrocchie questa sensibilità? Pian pianino sì, ci vuole molto tempo, le cose perché possono arrivare alla base occorre il tempo tecnico e il tempo fisiologico, però arriva, la nostra Chiesa è una Chiesa sensibile, una Chiesa che ascolta molto il proprio Vescovo, quindi una Chiesa capace di mettere a tema e quando si dice a tema non vuol dire soltanto nell'ordine delle idee ma nei programmi pastorali questa emergenza che ormai è sotto gli occhi di tutti come il primo problema che noi abbiamo perché di fronte all'insipienza noi siamo senza difese, quindi inutile poi lamentarsi ecco delle situazioni specialmente riguardo ai giovani se non c'è mica qualcuno che ha il coraggio di dire la verità tutta intera a questi giovani.